Per me la parola misericordia è la più bella che esista. È il cuore di Dio che si avvicina alla miseria dell'uomo. Io penso che Palermo sia una città che può dare molte prospettive, con tantissime qualità. Il problema è che ci sono sempre dei tetti. Le persone che si rivolgono a noi hanno dei bisogni concreti. Però poi ti rendi conto che hanno anche bisogno di instaurare delle relazioni con le persone. La mia madre aveva una malattia di carico. Quando la mia madre è tornata in Africa, non è morto. La prima madre è stata dire che non è passata per la Libia. A alcuni di noi siamo vivi perché alcune persone morono. Ho visto che alcune persone morono nel mare, nel deserto. Quando io arrivai qui, in questo centro, io me lo ricordo preciso. Io mi ricordo che vedi un campo proprio distrutto, non c'era campo da calcio. Ho conosciuto Sorana, lì per lì ci siamo presentati. Mi disse una frase, una frase molto bella. Mi disse, se tu mi vuoi aiutare, io sono qui. Tutto è sacro, specialmente l'umanità ferita è sacra. Non guardare solo con gli occhi materiali, ma entrare con gli occhi della fede e dire, Signore, ecco se tu mandi questi fratelli, io fa che possa rispondere a quello che tu, che è il tuo desiderio più che il mio. Grazie a tutti.